cominciamo adesso ragazzi abbiamo visto il grafico del seno del coseno guardiamo il grafico della tangente è un po più interessante perché ha un periodo che è diverso da due pi greco infatti poi voglio vedere chi me lo sa dire e soprattutto non va tra meno 1 e 1 ma può avere adesso poi vedremo tutti i valori vediamo perché allora è il rapporto tra seno e coseno quindi come sempre noi prendiamo ogni quadretto pi greco terzi e più o meno vediamo come si comporta quindi pi greco terzi qui c'è pi greco qui c'è pi greco poi andiamo a meno pi greco mezzi e qui andiamo ad esempio a meno pi greco sesti a scusato sbagliato ogni quadretto è pi greco sesti quindi è 30 gradi allora intanto mi sapete dire quanto fa la tangente quindi qui c'è x e quindi e qui c'è la y che è la tangente di x mi sapete dire quanto fa la tangente di 0 la tangente di 0 sarebbe il seno di 0 diviso il coseno di 0 comunque con la calcolatrice la tangente di 0 quanto fa la tangente in pi greco sesti viene radice di 3 su 3 comunque sono tutti valori tabulate allora quanto fa radice di 3 diviso 3 più o meno più o meno 0 e 57 quindi come quadretto prendiamo sempre 1 qui prendiamo l'unità due quadretti quindi 0 e 57 significa che siamo ad per esempio appena sopra la metà poi invece pi greco terzi come tangente a radice di 3 allora radice di 3 fa già 1.7 quindi siamo unità siamo già qua abbiamo già superato l'1 quindi la tangente non va tra meno 1 e 1 a pi greco mezzi la tangente fa impossibile e uno dice impossibile allora cosa significa non andiamo a esattamente a pi greco mezzi per vedere dove va calcolimi ad esempio la tangente non di pi greco mezzi ma la tangente di pi greco diviso 2,01 in sostanza lo ha dato la tangente di 89 gradi un pochino di meno si è sbettato metterla dentro quindi adesso noi facciamo la tangente di eh sì se voi fate la tangente di un numero molto vicino a 90 ma un pochino più piccolo quindi radianti tipo pi greco diviso 2,0001 viene una tangente che fa 12.733 quindi cosa significa che se io mi avvicino a 90 quindi io faccio una parola che si chiama limite cioè se io mi avvicino a pi greco mezzi ok ma non faccio pi greco mezzi mi avvicino la tangente tende a fare 10.000 100.000 più infinito quindi la tangente tende a volare in su graficamente cosa vuol dire forse avete già capito come funziona questa cosa com'è che va questa tangente a pi greco mezzi abbiamo un bel problema quindi un bel assintoto e la funzione tende a fare più infinito cioè va su ok quindi la tangente per i bambini di 89,99 potrebbe fare mille miliardi cosa succede per gli angoli negativi se voi fate la tangente di meno di meno pi greco sesti la tangente è dispari quindi semplicemente è simmetrica rispetto all'origine quindi se voi fate il grafico io mi aspetto che cosa un grafico che fa così ok domanda perché fa così tra meno pi greco mezzi e 0 in che quadranti siamo tra meno 90 e 0 siamo nel quarto come radiante questo intervallo dire così è come dire così stiamo studiando questo mentre tra 0 e pi greco mezzi dove siamo 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 su questo quadrante ok quindi qui la tangente ragazzi è negativa giustamente mentre nel rosso è positiva va bene quindi va in giù avete idea di cosa succede adesso noi facciamo il grafico in avanti cioè dopo vi do una bella notizia si ripete quindi significa che in tre mezzi pi greco abbiamo sempre un problema no perché in pi greco mezzi se vi ricordate e in tre mezzi pi greco quindi qui e dove qui in tre mezzi pi greco se voi guardate la tabella c'era scritto un bel mai quindi non lo fa ma la tangente si ripete quindi se voi fate la tangente di 91 cioè superiamo 90 che ha dato un problema quindi ad esempio Jacopo mi fai la tangente di pi greco diviso 1.999 che è come fare 91 gradi meno 1200 quindi se superiamo 90 un po tipo 89.99 la tangente vale più mille miliardi a 91 essendo diventata negativa vale tantissimo ma molto in basso quindi a 91 siamo a me come diranno a 9 un pochino più di 90 fa meno infinito però comunque parte molto in basso a pi greco ritorna a fare 0 e qui ritorna a fare questo allora alexandra che ha una visione grafica abbastanza notevole adesso solo vedendo questa cosa qua mi sa dire la periodicità della tangente no mi sono sbagliato sulle elevate esplosività pi greco perché se voi guardate siamo andati cioè questa tangente vive senza salti di disunità da pi greco mezzi a pi greco mezzi questo intervallo è lungo da qua a qua tipo da meno 90 a 90 c'è 180 cioè sto intervallo è lungo pi greco che è tra l'altro la lunghezza anche di questo vedete che si ripete cosa vuol dire si ripete che se voi dovete disegnare il grafico della tangente da meno infinito a più infinito lo disegnate solo da meno 90 più 90 poi fate ctrl c e poi ctrl v ctrl v ctrl v se mai io vi chiederò un grafico della tangente dovrete solo disegnare solo quella commesso in blu perché tanto dopo si ripete all'infinito e a me non mi interessa e poi lo scrivete quindi riassumendo mi sapete quindi dire del seno del coseno della tangente e se ci pensate un secondo della cotangente i periodi riassumendo il seno e il coseno 2 pi greco mentre la tangente e la cotangente pi greco potreste fare come esercizietto e quando lo dico significa che prometto nella verifica il grafico della cotangente visto che è l'unico grafico che se ci pensate non abbiamo fatto quindi vi consiglio di di guardarlo allora adesso vi introduco quella che avrei dovuto introdurre la prima volta che ho parlato di seno e coseno cioè quella che si chiama la relazione fondamentale è di una semplicità disarmante però e vorrei che ci arrivassimo insieme cioè quindi il titolo è la relazione fondamentale ma non ve la voglio dire come una formula voglio che voi ci arriviate quindi circonferenza goniometrica abbiamo un bel punto allora questo punto spero che abbiate imparato che ha una scissa e una ordinata che si sa quanto fanno ok perché se uno sa il punto sa trovare il suo angolo e sa che la x di questo punto è il coseno mentre la y del suo punto è il seno allora adesso noi ad esempio prendiamo come angolo un angolo ad esempio facciamo 60 quindi ma è una cosa prendiamo 60 ma è ancora generale ragazzi sapete quindi che ovviamente questo vale il coseno no questo segmento è lungo come il coseno mentre questo segmento qui è lungo come il seno quindi anche questo è lungo come il seno e questo come il coseno quindi qui ci scrivo una bella s e qui ci scrivo voi sapete quanto è lunga l'ipotenusa o no 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 definizione di circonferenza goniometrica raggio 1 perché la circonferenza goniometrica ha come raggio 1 quindi noi sappiamo la lunghezza dell'ipotenusa e spero che qualcuno di voi sappia il teorema di Pitagora perché io mi ricordo che il quadrato del cateto più il quadrato dell'altro cateto che qui sono uno il seno e uno il coseno quindi se io prendo un angolo qualsiasi qualsiasi e non mi interessa io so che il seno di quell'angolo se lo elevo alla seconda più il coseno dello stesso angolo ovviamente se lo elevo alla seconda fa 1 questo ragazzi è il teorema di Pitagora perché molti lo insegnano ma uno non capisce cioè questo è il teorema di Pitagora ed esprime un attimo questa è la relazione fondamentale che alla fine è il teorema di Pitagora non c'è nessuna radice perché il teorema di Pitagora parla di quadrati di quantità il quadrato è una quantità più un quadrato è un'altra quantità è l'ipotenusa del quadrato quindi si chiama relazione fondamentale e secondo voi perché è così importante? perché se io quindi di un angolo vi do il seno voi grazie a questo trovate il suo coseno o il contrario questa quindi si chiama relazione fondamentale fondamentale ed è un teorema di Pitagora quindi ad esempio per fare un esempio prendiamo ad esempio 0 gradi qual è il suo seno e qual è il suo coseno? quindi il suo seno è 0 e il suo coseno è 1 quindi quanto fa sen quadro più cos quadro di 0? viene 0 alla seconda più 1 alla seconda che fa 1 prendiamo ad esempio 30 gradi qual è il suo seno? un mezzo qual è il suo coseno? radice di 3 allora quanto fa seno alla seconda? un quarto quanto fa coseno alla seconda? beh ragazzi se questo le eleva alla seconda radice di 3 alla seconda fa 3 2 fa 4 quindi viene 3 quarti e questo fa? un quarto più 3 quarti fa 4 quarti che è 1 ma è logico perché ogni angolo crea un sen quadro più un cos quadro che fa 1 ultimo esempio prendiamo ad esempio 45 gradi che ha radice di 2 su 2 ovunque no? quanto fa questo al quadrato? 2 quadro 2, 2 avviene 1 no se lo elevi alla seconda avviene 2 quarti si 2 quarti più 2 quarti fa 4 quarti che fa 1 quindi qualsiasi angolo che vi prendiate ha la proprietà che il suo seno alla seconda più il suo coseno alla seconda fa 1 volete prendere un angolo che fa schifo? 31 virgola e lo facciamo con la calcolatrice ragioniamo i radianti allora prendiamo un angolo qualsiasi i radianti quindi ad esempio prendiamo pi greco diviso 26 pi greco ventesimi dimmi quanto fa il seno di pi greco ventesimi approssimato ovviamente perché penso te lo dia in modo approssimato allora Jacopo mi dice che fa 0.156 mentre il suo coseno vale ve l'ho già calcolato 0 punto con tre cifre 9 8 e poi sarebbe 7 6 quindi tommi mettiamoci sommati non seno più coseno cioè questo è il seno bisogna elevarlo alla seconda quindi 0.156 0.024 0.988 alla seconda fa approssimato 0.976 ma comunque adesso se voi fate la somma tra s quadro e c quadro fa 1 quindi qualsiasi angolo voi facciate viene se s quadro più c quadro e non seno più coseno perché poi conosco i polli sen quadro più cos quadro fa 1 pausa adesso io conosco v c v e cioè alla fine io non conosco t come faccio a calcolarlo non conosci e non conosco la t eh infatti sarebbe per questo la formula inversa cioè t è uguale a tutta sta bella qui sì adesso tu hai v no? sì eh sostituisci cioè questa cosa significa t uguale sì sì lo so lo so eh ah sostituisco in questa questi eh via questo qua ok eh io se fosse in tela riguarderei un secondo qui ci hai messo un meno no? sì quindi qui cosa hai fatto? hai applicato il log da qua a qua da qua ho messo quello hai messo il meno eh ho capito ma quando sei qui non puoi applicare il log perché c'è sto meno che ci sono sulle palle quindi prima bisogna sistemare questo meno perché tu hai fatto il log e poi hai sistemato il meno invece bisogna sistemare il meno e fare il log non è la stessa cosa se ci pensi dai muoviti allora se avete bisogno ditemelo adesso perché poi finisco la lezione eh guarda che sta la roba fatta bene e viene preciso eh beh ci mancherebbe ok ragazzi arrivo faccio un esercizio di come si applica questa cosa qui poi basta riprendo quindi usando la notazione e la relazione fondamentale noi siamo in grado anche se sembra molto difficile anche se poi vi sembra complicato ehm a riuscire a fare esercizi così che saranno tipici della verifica voi avete un angolo che non sapete quanto fa ok ma sapete che il suo seno vale un quinto il seno di quest'angolo vale un quinto e sapete attenzione che quest'angolo vive tra pi greco mezzi e pi greco facciamo un ragionamento un attimo che serve dove sono ragazzi gli angoli che hanno i seni positivi perché noi un quinto non ci interessa molto dobbè ma in che quadranti siamo se il seno è positivo e voi questo ragionamento dovrete sempre farlo e quindi sempre disegnare la circonferenzina sapete che il seno è positivo quindi significa che noi stiamo studiando questa zona dove il seno è positivo però vi dico per un motivo che capirete tra pochissimo che l'angolo che noi dobbiamo studiare non è solo nel primo e nel secondo ma essendo tra pi greco mezzi e pi greco è solo nel nel secondo è solo qua e tra un po' capirete subito il perché ve lo spiego subito il seno di quest'angolo fa un quinto quindi come altezza siamo a 0,2 non mi interessa molto sapere quanto fa ma la disegni in modo approssimato quindi abbiamo due punti che sono ad un'altezza che fa un quinto quindi questa altezza fa un quinto quindi domanda per i più esperti di angoli che hanno il seno che fa un quinto ne ho uno o due? sempre due quindi in realtà di angoli che hanno il seno un quinto ne ho due ho esattamente questo qua e ho questo qua però c'è un problema ragazzi che questo angolo ha il coseno positivo mentre questo angolo ha il coseno negativo visto che ciò che io vi chiedo è il coseno uno dovrebbe dirmi prof ma è impossibile poi alla fine lo prendo col più o lo prendo col meno perché non ho due quale scelgo e uno dice beh li prendo tutti due uno col più uno col meno però se io vi dico che quest'angolo sta tra pi greco mezzi e pi greco ho selezionato uno dei due perché tra pi greco mezzi e pi greco io guardo soltanto quello che sta tra pi greco mezzi e pi greco quindi soltanto questo che ha il coseno negativo quindi quando io dovrò scegliere a un certo punto della mia vita e vediamo quando se prendere il più o il meno se non ho fatto sto disegno mi attacco ok perché non ricordo se devo prendere il più o il meno ma questa cosa mi dice anche senza fare il disegno che devo prendere quello con il meno perché tra pi greco mezzi e pi greco il coseno è negativo facciamo il conto allora come si fa secondo voi visto che abbiamo appena fatto la relazione fondamentale sapendo il seno a trovare il suo coseno in realtà vi consiglio di non fare nessuna roba inversa nel senso che noi sappiamo che il seno alla seconda più il coseno alla seconda fa 1 quindi il seno fa un quinto quindi faccio un quinto alla seconda più il coseno di x il coseno di alfa alla seconda fa 1 quindi viene un venticinquesimo più adesso a breve con c quadro ma abbiamo capito uguale a 1 viene c quadro uguale allora devo mica fare 1 meno un venticinquesimo allora viene 24 venticinquesimi e adesso qui voglio tutta la raccolta dei polli perché è qui che io creo il più e il meno perché c alla seconda uguale a 24 venticinquesimi viene se faccio la radice più o meno perché essendo no pari devo fare il più e il meno che cosa la radice di 24 venticinquesimi se voi tra l'altro scrivete radice di 24 venticinquesimi la calcolatrice ve la razionalizza ok perché la radice di 24 essendo 4 per 6 viene 2 radice di 6 25 diviso 5 quindi ve la fa no va dall'estetista e ve la metta a posto più o meno ma quella che ho scelto io devo prendere il più o il meno in questo caso visto che voglio prendere angoli tra pi greco mezzi e pi greco devo prendere il meno quindi la soluzione è meno ok è meno 2 radice di 6 fratto 5 così in questo modo questo angolo ha adesso un suo seno un suo coseno voglio calcolare la sua tangente niente di più facile adesso ho il suo seno e il suo coseno quindi la tangente è che cosa un quinto diviso questa quantità con la calcolatrice voi scrivete linea di frazione sopra un quinto e sotto meno 2 radice di 6 fratto 5 cosa viene facciamolo insieme allora linea di frazione sopra scrivo meno radice di 6 fratto 12 si viene un quinto sotto meno 2 radice di 6 il tutto fratto 5 come diceva Edo viene meno radice di 6 fratto 12 quindi un esercizio qui vi do il seno e vi dico in che quadrante sta voi in modo molto semplice mi sapete calcolare il coseno la tangente la cotangente quanto fa quindi? devo invertire cioè la cotangente la posso fare in due modi o faccio l'inverso della tangente o faccio il coseno diviso il seno quindi la cotangente se ve la chiedo o è l'inverso della tangente o basta che faccia il coseno diviso il seno e ho finito e ho finito Grazie a tutti.